Mio padre dice che l'uomo vero è quello che fa la cosa giusta, anche se non è la cosa bella. Io e voi lavoriamo bene insieme, e questa è la cosa giusta. Lo so io e lo sapete pure voi. Ma che pensi? Voi ce l'avete con me. Io lo desideravo con tutto me stesso. Tra me e Caloggiuli non c'è nulla, dottore. Caloggiuli, meno male che ci sei tu. Io credo di essermi innamorato di te. Perché sei scappato di Ponte in Bianco? A certe volte le parole vengono fuori da solo, anche se sai che sono sbagliato. Poi se si vuole condannare una persona solo per le intenzioni, allora io sono colpevole. Voi avete paura, paura di qualche cosa, l'amore. Ho un trasporto verso di lei. Dottoressa. Caloggiuli. Sei tornato. Grazie. Prego. Colpa mia allora. Io sono responsabile di tutto. Ma che colpa è colpa, dottoressa? Perché uno resiste, 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 però poi alla fine non basta. State tranquilla, dottoressa. Ma come vuoi pensare che possa preferire che ha pozzo qualsiasi altro a te? Sbagliato pure io. Quale sarebbe la cosa bella? Io sono pronta a testimoniare. Quindi il maresciallo non ti è indifferente. Dottoressa. Sì? I vostri sentimenti vi fanno solo onore. Io lo so che voi ce l'avete con me. Non ci tengo, dottoressa. E' un'altra. Grazie per avermi perdonato, me lo giuri. Ma non lo farò. Niente è più bello di quel momento che abbiamo passato insieme. Ho così tante emozioni dentro che... ...che la droga più potente ce l'abbiamo nel nostro corpo. Te lo giuri dimenticalo, eh? Endorfina ci chiamo. Io stanotte mi sono fatto un'overdose da endorfina. E' stato uno sbaglio. Io faccio un passo indietro e chiedo il trasferimento. In certi casi forse... ...è meglio proprio niente. Se voi me lo chiedete. Lo sbaglio è bellissimo, però... Io faccio un passo indietro e chiedo un passo indietro e chiedo un passo indietro e chiedo un passo indietro.